Il 16 aprile a Palazzo Lascaris per il ciclo Filo Diretto, organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, è stato presentato il volume Ritorno al Mittente di Guido Quarzo. All'evento hanno partecipato un centinaio di alunni di cinque classi delle scuole elementari torinesi. Si tratta della quinta C della Collodi, della quinta B e C della Vittorino da Feltre e della quarta A e B della Gambaro, che hanno svolto un percorso storico, didattico e sui temi della resistenza e della democrazia. Si tratta di una storia particolare rispetto alle storie che scrivo normalmente perché è una storia vera, è una storia che mi ha raccontato mia madre in diverse occasioni e io ho sentito il desiderio, il bisogno di scriverla perché ho pensato che potesse essere un percorso per arrivare a capire chi siamo adesso attraverso le vicissitudini di chi ci ha preceduti.